Ciao bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, lo ripeto, ciao bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi giochiamo a Brawl Stars Ehm, sono arrivato sulla calenda di Brawler, ehm, nulla, qui abbiamo la gratuita oggi, c'è tipo 23 bambini che vediamo 41 bambini, ma chi se ne è? Allora qui la gratuita, abbiamo quello che è, ehm, qui c'è un'altra gratuita, no, no, no Quindi si salva, ehm, ragazzi mi sentite? Sarò di qui, perchè oggi non mi farò sentire un nonno, un nonno che parla, no? Oh, non mi vedo, è un'altra, no, 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 no l'unica è scegli che proviene inizia povera scegli qui mi ha detto l'unica bro che guarda c'è il buco che è ecco here we go again questo è questo perché questo di un grande battaglia prende inizia questo è meglio vede vallate guarda di guarda qui non c'è vede basketbolla è bellissima ritocchiamo iniziamo aspettate scusatemi ragazzi ci sono ci sono ci sono a posto è ben petta mi sa che qui è un po' perfetta scegli quella oh c'è quello c'è quello più più spara più spara spara più di più spara più di più è così stupida perché sei andata contro il raggio io rigioco che me ne frega se quella giocherà la scarsa come la schifo io sono oddio ragazzi censuratemi il nome non era molto mio amico perché mi sono vabbè chi se ne perché mi hanno interrotto la connessione i vicini i vicini mi hanno interrotto la connessione di solito questi aprono le porte chiudono fortissimo si togono i colpi non so se era per quello eh orto se ne è chiudono il wifi è andato e ne ha proprio scappato chi è questo si 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 se vuoi io noto con le gabionte no 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 ho rotto i balli i ballotti oh capo il primo è troppo di forte ecco sta già scazzata guarda 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 veramente dopo ragazzi non lo so che metto sinceramente no non so che metto vogliamo spararci eccolo eccolo ma da qui verrà molto schifo che gioca a bruster perché è passato in moda ma a me lo so ancora non lo so scambiato tutto da quell'espezione quella esperienza comunque tutti l'hanno sblocato posso dirlo scavoletto di bruxelles scavolo ho trovato stessito e 80.000 sonute io gioco ancora ragazzi pronti per questa partita spero che questo video avrebbe un sacco di like un sacco di roba tutto speriamo di sì che bordo è sì che bordo sì spiu spiu Gay Lee può spiu 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 bom 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 quanti poweroop fate una strage amico ma sei stupido amico è stupido l'amico mi sta giocando bene ragazzi siamo troppo troppo sono i 60.000 bondi l'anno siamo i 60.000 bondi l'anno siamo qui un colto muovi comunque oggi ragazzi a scuola c'è un look fantastico da nerd è già è di un borca vacca non si dice è di un borca vacca Vai, uccidi! Credo uno. Uno, uno. E togli, dai, lo sballo. Ecco, un po' più... Uno. Ok, poi. Ehi, sono proprio il mugnagno. No! Vabbè, terzi. Sì, ripristiniamo pure. Vai, ripristiniamo. E bui risoluzione. Lei finiva. Ragazzi, mi tratta per Hub. Poi, se non mi troppo stava, allora non mi troppo stava. Ok, se stessi... Non si è piacere. Non mi troppo stava. Non mi troppo stava. Ok, va, non mi troppo stava. Quello non era il mio amico Che sa vedere Uno, dieci, nove, otto Sei stupido come l'ho muerto Come la morte proprio Rrrra perchè è schifo Stupido Come la morte Un carretto popo Dobbiamo ripristinare tranquillo Vai speriamo quando arriva la blublusca Babusca Eccola la blublusca Ok posso ripristinare un miliardo di vita Vai altra Corri, corri amico di sbrillo Brillo Sbrigati Sbrigati Abbiamo già Quasi diecimila di vita Venti diecimila Bambusca 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 C'è un po' più Un po' più mugnini che ha parlato Alberto ha la tua è una metà è Gabriella e 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